Buongiorno, ben trovati a un nuovo appuntamento con lo speciale dedicato alle attività del Consiglio regionale della Toscana. Nella sala freschi di Palazzo del Pegaso è stato presentato il libro di Evandro Dell'Amico, Il mio nome è mai più, questo il titolo con riferimento agli eventi della seconda guerra mondiale, un evento che ha preso lo spunto per fare una particolare riflessione sulla guerra in Ucraina. Un libro il cui titolo propositivo è stato già bruciato da quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina. Evandro Dell'Amico, autore del libro Il mio nome è mai più, nella sala freschi di Palazzo del Pegaso, ha presentato memorie familiari, tragiche sì eppure quanto mai utili per riflettere sull'assurdità della guerra con il cuore amareggiato e affranto. Il conflitto bellico nel cuore dell'Europa ci riporta indietro di anni e per lui rivivere quelle dinamiche è atroce. Nel raccontare quanto accaduto al padre e allo zio durante il secondo conflitto mondiale, entrambi deportati e in particolare lo zio di cui porta il nome, morto distenti in un campo lagher in Sassonia, ha esortato la società, le istituzioni, i cittadini e i cittadini a non perdere e disperdere la memoria. Gli ha fatto ecco il presidente dell'Assemblea Legislativa, Antonio Mazzeo. Mio padre, catturato il 7 febbraio del 1941 in Libia, fu poi deportato dagli inglesi in Australia e tornò nel gennaio del 1947. Il fratello minore, Evandro, di cui ho porto il il nome, invece il 9 settembre del 1943 come militare, non aderendo alla continuazione della guerra a fianco di Hitler, fu deportato in un lager in Sassonia. Da lì purtroppo il 13 aprile del 1945, finì la sua vita stroncato dagli stenti patiti in prigionia. Una serie di libri che raccontano purtroppo le tragedie di quegli anni, che hanno toccato anche la sua famiglia come tante famiglie toscane durante la Seconda Guerra Mondiale, le violenze subite, le morti. Purtroppo oggi, non lontano da noi, la distanza di Cetra all'Ucraina e Trieste, molto meno quella di Cetra a Trieste e la nostra Sicilia, si stanno rivivendo scene terribili come quelle purtroppo che abbiamo vissuto tanti anni fa. Il nostro compito nel momento in cui non ci sono più testimoni diretti di quel tempo è quello di diventare amplificatori di memoria, perché quello che è accaduto non accada mai più. A noi il compito di ricordare, ma non un ricordo stantio, fatto perché andava fatto, ma un ricordo perché ognuno prenda coscienza della violenza di quel tempo e che purtroppo quelle violenze si stanno perpetrando ancora oggi. Anche il Presidente della Commissione Affari Istituzionali del Consiglio regionale, Giacomo Bugliani, ha sollecitato un'attenta analisi del presente. Un'opera che è frutto di un'attenta analisi di carattere storiografico, ma che al tempo stesso si basa su relazioni personali, su affetti familiari e che vuole essere di monito al nostro presente. Un documento prezioso che attraverso la figura dell'omonimo zio Evandro Dell'Amico, azionista cattolico, ci porta a riscoprire una serie di valori che mai come ora, in un tempo di guerra, risultano attuali. Di libro commovente parla l'ex Presidente della Regione Toscana, Vannino Chiti, che ricorda un grande Presidente del Consiglio regionale, Elio Gabbugiani, il primo che fece sfilare insieme partigiani, forze armate e le brigate ebraiche che avevano combattuto in Italia. Un internato militare italiano, dei tanti che non si schierarono dopo l'8 settembre del 1943 con i fascisti e con i nazisti e furono internati, lavorarono duramente. Tra l'altro è un pezzo della nostra resistenza che è stato riscoperto tardivamente. All'autore il Presidente dell'Assemblea Legislativa e il Presidente della Commissione Affari istituzionali hanno consegnato una targa per l'intensa attività di ricerca storiografica e per l'alto valore letterario delle proprie pubblicazioni. Testimonianza dei valori, dei valori della paternità, dell'onore, tutta una serie di valori che sono andati un po', come dire, sono decaduti in questi ultimi decenni, mentre invece, come ho avuto modo di dire in un'altra presentazione di questo libro a massa, l'operazione di Evandro è stata un'operazione di rivalorizzazione della figura del padre, della famiglia, dell'esperienza, dei valori di una volta, di tutta una serie di cose che le ultime generazioni non sanno neanche che esistono. Nell'azione cattolica di Massacarara Pontremoli abbiamo avuto persone che, attraverso l'esperienza associativa, hanno avuto un'esperienza di fede che ha permesso loro di vivere con senso anche un'esperienza tragica come quella della prigionia e della guerra. E quindi è importante farne memoria. È tutto dedicato al preziosissimo lavoro dei volontari della Croce Rossa, in particolare di quella di Grosseto che ha redatto il libro, il libro appunto presentato nella sala gonfalone di Palazzo del Pegos, il titolo è 2020, l'anno più lungo, piccole luci nella notte del Covid, in particolare si fa luce sull'operato dei volontari durante la pandemia, con il trasporto dei malati, ma anche con il trasporto di viveri e di servizi essenziali a chi aveva bisogno di più aiuto. Si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare chi tra i volontari non c'è più vittima del Covid, la presentazione nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso del Libro 2020, l'anno più lungo, piccole luci nella notte del Covid, scritto dal presidente del Comitato Croce Rossa di Grosseto, Hubert Corsi, e dai volontari del Comitato di Grosseto, racconta un percorso che molti hanno vissuto nel silenzio, chiusi nelle proprie case, ma che al contrario i volontari della Croce Rossa hanno vissuto al servizio di tutti coloro che avevano bisogno di aiuto dalla consegna della spesa e dei farmaci al servizio fondamentale del trasporto dei malati di Covid negli ospedali. Un'emozione che è continuata durante un anno lunghissimo perché questa pandemia non finiva mai, ecco perché abbiamo scritto 2020 l'anno più lungo, e poi la fatica perché i nostri volontari hanno una loro intimità di cui sono gelosi e quindi non scrivono tanto volentieri le loro esperienze. Però piano piano ci siamo riusciti, abbiamo aggiunto tutta una serie di istantanee che riguardano proprio la vita quotidiana di un Comitato e l'abbiamo dedicata un po' a tutti i volontari della Croce Rossa. Il presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo è ringraziato per l'impegno instancabile profuso dalla Croce Rossa in tutta la Toscana e per questo insieme alla consigliera regionale espressione del territorio Donatella Spadi ha consegnato a Uercorsi al vicepresidente del Comitato regionale della Croce Rossa italiana Costantino Danese un Pegaso d'argento e il gagliardetto della regione toscana. In cambio ha ricevuto un'opera realizzata per l'occasione che al centro della Croce Rossa pone l'uomo vitruviano passato alla storia per il celebre di segno di Leonardo da Vinci. Senza di loro la Toscana non avrebbe gestito questo tempo difficile della pandemia così come ha fatto. Lo ha fatto perché quel filo rosso di associazioni che sono legate l'una all'altra e che guardano sempre alle persone più in difficoltà, più in sofferenza ci ha permesso di gestire questo tempo difficile al meglio. Lo spirito di sacrificio e abnegazione che tutti i volontari della Croce Rossa hanno messo in campo e soprattutto anche l'umanità perché l'umanità è molto importante per i rapporti con le persone e la gentilezza. Un percorso che molti hanno vissuto nel silenzio e nel chiuso delle loro case in questo lungo anno che è stato appunto il 2020 e l'anno dello scoppio della pandemia Covid ma che invece i volontari della Croce Rossa non hanno al contrario passato al chiuso ma diciamo che si sono aperti, hanno fatto da collegamento al servizio di tutti coloro che ne avevano necessità. Presente anche l'assessore all'economia della giunta regionale Leonardo Marras. Un anno difficilissimo che ha cambiato le vite, ne ha interrotte tante, però ha anche cambiato la mentalità e probabilmente cambierà ancora tanto perché è un passaggio della storia. Però ascoltare le testimonianze di chi davvero ha vissuto questi momenti, entrarci dentro a quei momenti credo faccia bene a tutti. Dal 6 al 12 di giugno l'eccellenza della musica classica prende vita a Cortona. È stato presentato nella sala Gonfalo del Palazzo del Pegaso, l'organizzazione della Nume Academy and Festival. Musica classica di altissimo livello è la grande offerta culturale del borgo etrusco di Cortona. Sono gli ingredienti sapientemente miscelati dagli organizzatori del Nume Academy and Festival. La manifestazione in calendario dal 6 al 12 giugno presentata nella sala Gonfalone di Palazzo del Pegaso, dove il padrone di casa e il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato come l'evento rappresenti perfettamente la sua idea di Toscana, che è quella di tenere insieme la valorizzazione del territorio con la sua arte e la sua storia, investendo anche su eccellenze, come i ragazzi più giovani che stanno emergendo, facendoli conoscere. A spiegare il progetto, Natalie Dentini, direttrice di Nume Academy and Festival. È una nuova idea di festival, dove conoscere da vicino i grandi artisti e le nuove generazioni in anteprima non solo ospita grandi nomi già affermati del panorama internazionale, ma porta in Italia i migliori talenti della musica classica, che durante quella settimana saranno a Cortona, per partecipare nello splendido ex convento Sant'Agostino a masterclass gratuite di altissimo livello aperte al pubblico. È un evento come questo, è un evento che porta speranza e ottimismo, perché insieme tiene la valorizzazione dei ragazzi più giovani, dei nuovi talenti, con i nomi tra i più importanti del palcoscenico internazionale. Insomma, saranno davvero giorni importanti dal 6 al 12 giugno a Cortona, giorni in cui si può vivere la bellezza di un territorio insieme all'amore per la musica, la musica quella bella. Sono sei giorni di musica classica a livello altissimo in questo bellissimo borgo etrusco a Cortona, portiamo i nomi più grandi attuali, quindi ci sarà Quartetto Belcea, Albanghera, Serlacene, tutti i docenti dell'Accademia. Parlo dell'Accademia perché il cuore pulsante del progetto è un corso di altissimo perfezionamento per 12 ragazzi che vengono selezionati in tutto il mondo e vengono proprio a Cortona, dall'Australia, dall'America, da tutta Europa per partecipare a questo corso totalmente gratuito. Finalmente dopo il Covid si riparte, si riparte alla grande, con questo che è veramente un festival capace di portare grandi artisti di fama internazionale, ma anche di legare a questi artisti un esperimento, un approfondimento, un aggiornamento, un perfezionamento delle nuove generazioni, quindi la capacità di coniugare i grandi artisti con anche le nuove generazioni e non è un scenario straordinario che è quello di Cortona e di Sant'Agostino che per chi come me cortonese ha un suo significato storico, didattico molto ben evidente. Abbiamo voluto riportare un grandissimo evento nella nostra città, ormai era da tanti anni che non c'era più un appuntamento così importante con la classica a livello mondiale, internazionale e il nome Academy Festival sarà veramente un evento di cui ricorderemo che vorremmo soprattutto potenziare negli anni a venire, quindi questo è di buon auspicio soprattutto per la ripartenza del turismo, la ripartenza della cultura e quindi Cortona diventerà faro attrattivo rispetto agli altri paesi e quindi speriamo davvero che la nostra prima edizione possa avere un grande successo. Dal 5 al 19 di giugno torna il Carnevale di Foiano della Chiana, dopo ben due anni di stop a causa della pandemia torna una rinnovata edizione, in particolare la 482esima edizione. Fermato dalla pandemia torna dopo due anni di stop il Carnevale di Foiano, dal 5 al 19 di giugno si coloreranno le strade del borgo più antico d'Italia, quelle di Foiano della Chiana che ha il vanto di organizzare la sua 482esima edizione. Una grande tradizione, un importante segno di ripartenza, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo del Pegaso. Sono contento che la Presidente De Roberti sappia voluto questo momento qui in Consiglio regionale che è anche un segnale di ripartenza, di speranza, vedere che i nostri territori tornino a vivere, che i nostri territori tornino a far conoscere le loro tante tradizioni. Il Carnevale di Foiano è una delle più belle tradizioni che abbiamo nella nostra Toscana, fatta di colori, fatta di allegria e devo dire che dopo questo anno e mezzo difficile, due anni difficili di pandemia, questi momenti servono a ridarci speranza e sono contento che abbiamo potuto lanciarlo qui in Consiglio regionale. A rappresentare il Consiglio regionale, anche la Presidente della Commissione Ambiente che ha sottolineato come questo Carnevale fuori stagione, testimoni al meglio la capacità di un territorio di reinventarsi e di non rinunciare alle proprie tradizioni. Sì, questa è la capacità di un territorio di reinventarsi e di non rinunciare alle proprie tradizioni, alle cose che ama fare e che i cittadini sono affezionati. Un Carnevale di tutto rispetto, non ci andremo con il cappotto, ci andremo con la maglietta maniche corte, ma sarà comunque la presenza della Regione insieme, territorio a fianco di queste persone, perché noi vediamo sfilare un carro, ma ci sono dietro ore di lavoro, sacrifici, rinunce importanti anche di chi sta in cantiere piuttosto che in famiglia, quindi siamo contenti, significa che non avevamo sbagliato pensando che il Carnevale fosse davvero importante per questo territorio, ma l'ho dimostrato reinventandosi in una stagione dove di solito si va al mare, non a fare sfilate mascherate. Un Carnevale fuori stagione che ha permesso di tornare alla normalità, facendo tornare a vivere i cantieri delle quattro fazioni, azzurri, bombolo, nottamboli e rustici. Ufficialmente inizia il 5 e andrà avanti per tre fine settimana, dove avremo la famigerata gara dei carri con le valle sfilate dei carri allegorici, il primo c'è la gara il 5 di giugno, poi dopo avremo un weekend che è compreso tra sabato e domenica, l'11 e il 12 e la conclusione il 19 con la lettura del verdetto. Facciamo anche l'11 che è un sabato, facciamo anche l'evento i corsi mascherati in notturna, avremo una serata che parte dalle 5 e mezzo, più o meno delle sfilate, fino a l'una di notte. Questo è un po' il programma, che riprendere un po' il Carnevale estivo che facevamo tutti gli anni all'ultimo weekend di giugno. Ed è tutto dallo speciale dedicato alle attività del Consiglio regionale, l'appuntamento è per la prossima settimana.